Da quanto tempo è che scrivi di noi? Lui viveva solo per se stesso. E poi tutto cambiò. Ti amo. Resta. Ardyn ha così tanti demoni. Ero giovane, ero innamorata ed ero terrorizzata. Ma prova a essere migliore per me. Continuo a trascinarti nei miei casini, Tessa, e non va bene. Non so se posso continuare a lottare per salvare lui invece di me stessa. Stiamo lontani per un po'. Non riuscirai a fuggire da te stessa andandotene da un posto all'altro, lo sai. Piovono offerte su offerte per il mio libro. Io non voglio che la gente legga della mia vita. È la nostra vita. Che senso ha tutto quello che abbiamo passato se non possiamo trasformarlo in qualcosa che aiuti altre persone? Parla di perdono e amore incondizionato. Ecco che tipo di storia racconta After. È il mio viaggio dopo averti incontrata. Sì! Così ti arrestano, questo lo sai, vero? E questo te ne devi andare! Non c'eri quando le servivi e adesso peggiori le cose! Metti alla prova ogni centimetro del mio autocontrollo. Non immagini quanto.